Ciao a tutti, oggi parliamo dell'encefalopatia epatica che è diciamo una complicanza di problemi epatici, tendenzialmente una disfunzione neurologica in pazienti con problemi epatici e che generalmente è causata da delle tossine che tendenzialmente vengono detossificate dal fegato, mentre in pazienti con problemi epatici gravi queste tossine ovviamente vanno ad agire a livello corticale creando una serie di segni sintomi che poi vedremo in questo video. La tossina diciamo responsabile di questo tipo di problema è l'ammoniaca, l'ammoniaca fondamentalmente in un cane, in un gatto sano è fondamentalmente ridotta la sua presenza nel sangue perché viene completamente trasformata dal ciclo dell'urea in urea. Fondamentalmente ci sono degli enzimi che trasformano l'ammoniaca che viene prodotto dal catabolismo proteico, cioè quando noi mangiamo viene prodotta una quantità di ammoniaca, questa ammoniaca attraverso diciamo la vena porta arriva al fegato e lì viene trasformata in urea che poi va nel sangue. Quando abbiamo un problema grave al fegato questa ammoniaca diciamo non viene trasformata completamente dal fegato quindi abbiamo alti livelli di urea, di ammoniaca scusate, e bassi valori di urea e questi alti valori poi creano dei danni a livello ripeto soprattutto encefalico corticale. In alcuni casi abbiamo per esempio le fasi terminali di epatopatie croniche che possono provocare l'encefalopatia epatica oppure anche in animali giovani per esempio coloro che hanno gli shunt portosistemici congeniti, per esempio alcune razze sono predisposte, lo vedremo in un altro video che cos'è lo shunt portosistemico nel dettaglio, comunque fondamentalmente per spiegarci in questo video praticamente bypassa lo shunt, bypassa il fegato e quindi l'ammoniaca prodotta non viene trasformata dal fegato in urea perché fondamentalmente bypassa il fegato e quindi va direttamente nel circolo sistemico per cercare di spiegare in parole un po' semplici per quanto siano semplici questi termini. Fondamentalmente cosa avviene? Che questa ammoniaca riesce a passare la barriera ematoencefalica e generalmente a livello corticale e da fondamentalmente un edema cerebrale che poi chiaramente crea una serie di segni e sintomi sull'animale stesso. Calcolate che un animale con un problema epatico tendenzialmente può avere vomito, anoressia, può avere una perdita di peso, può avere ittero, diciamo che le sue condizioni non sono, le sue condizioni generali sono già abbastanza compromesse. Se aggiungiamo poi dei problemi che colpiscono l'encefalo chiaramente peggioriamo la situazione. Possiamo vedere un cane che manifesta per esempio dei tremori, della tassia in coordinazione, potresti vedere il tuo cane andare in circolo, potrebbe fissare il muro, fermarsi, avere cecità, avere cambiamenti legati al comportamento soprattutto aggressività. Nel gatto abbiamo molto spesso l'encefalopatia epatica può dare ipersalivazione fino ovviamente ad avere convulsioni, epilessia, coma e quindi fondamentalmente lo stadio poi finale è la morte se non si interviene a ridurre fondamentalmente queste tossine che agiscono a livello dell'encefalo. Generalmente come si interviene quando si sa per esempio che un cane e un gatto hanno dei problemi epatici cerca di agire a livello di dieta per ridurre chiaramente la componente di ammoniaca e quindi devono essere delle diete bilanciate, esistono diverse marche che fanno diete bilanciate per problemi epatici oppure si sceglie un buon nutrizionista veterinario che imposterà una dieta per stabilire ovviamente un equilibrio perché non va bene né una riduzione completa delle proteine né ovviamente un'alimentazione ricca di proteine. Poi ci sono dei fattori predisponenti all'encefalopatia epatica perché per esempio un cane con uno sciampo ortosistemico che nasce con uno sciampo ortosistemico si è visto che tende a sviluppare l'encefalopatia epatica quando ci sono anche dei processi infiammatori per esempio si è visto che per esempio la pielone frite, la cistite sono dei fattori predisponenti all'encefalopatia epatica in questi soggetti probabilmente causati da batteri ureasi produttori o batteri che intervengono per esempio a livello di colon e che possono produrre una quantità di ammoniaca elevata. Quindi ci sono dei fattori predisponenti poi alla formazione di questa sindrome, di questo problema che è l'encefalopatia epatica tendenzialmente comunque legato al fatto che il fegato non funziona più e quindi l'ammoniaca che si crea fondamentalmente a livello intestinale che viene assorbita nel sangue poi arriva al fegato attraverso la vena porta e qui non viene trasformata in urea. Fondamentalmente questo è il principio su cui si basa l'encefalopatia epatica. Oppure in cani con sciampo ortosistemico congenito che sono nati con una diciamo deviazione delle vene quindi non entrano totalmente nel fegato quindi una parte di sangue dall'intestino bypassa il fegato e va direttamente nel circolo sistemico e questo chiaramente quindi abbiamo un elevato aumento dell'ammoniaca. Di solito come si diagnostica un'elevata quantità di ammoniaca di solito basta un esame del sangue però è molto caratteristica, l'ammoniaca è tendenzialmente un gas e quindi è molto volatile quindi quando noi vogliamo effettuare una valutazione dell'ammoniaca dobbiamo calcolare che fondamentalmente sarà molto volatile quindi quando facciamo un prelievo l'ideale è eseguire subito l'esame dell'ammoniaca altrimenti potremmo avere dei valori bassi di ammoniaca. è uno dei motivi per cui quando ho dovuto scegliere nella mia struttura un'attrezzatura per l'analisi biochimica del sangue ho scelto un'attrezzatura che mi permetteva l'ammoniaca in modo tale che nel momento in cui fai il prelievo esegui subito l'ammoniaca e quindi il valore è elevato. Per esempio già spedire il siero può avere dei grossi problemi quindi fondamentalmente è un esame che se hai in casa è sicuramente più attendibile che se lo spedisci quindi fondamentalmente questo è un esame che non è neanche esageratamente costoso quindi è uno degli esami che quando noi eseguiamo per esempio un profilo biochimico e vediamo che l'urea è bassa è un campanello d'allarme per andare a verificare l'ammoniaca perché se l'urea è bassa potenzialmente l'ammoniaca è alta quindi se durante un controllo, un esame del sangue, il primo esame del sangue che fate al vostro animale magari giovane vedete che l'urea è bassa sotto i limiti fisiologici è molto interessante andare a verificare la presenza valutare quanta ammoniaca è presente in modo da capire se esiste uno shunt per esempio spero che questo video abbastanza tecnico vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima